Oltre 6 milioni di euro serviranno a riqualificare il waterfront fluviale lato nord che dalla curva di via Paolucci arriva alla Madonnina. Il fiume è importante quanto il mare era nei progetti dell'amministrazione Masci e ora trova concretezza con i fondi del PNRR. Sono previsti interventi anche in piazza Sacro Cuore e su Corso Umberto, l'area interessata è di circa 250 metri di lunghezza. Si tratta di un'opera di rigenerazione urbana molto complessa che mette insieme nuove e più opportune simmetrie come quella che presto interesserà la piazza storica di Pescara ma che mette di nuovo al centro la priorità ambientale, il contrasto e i cambiamenti climatici anche con la creazione di nuovi specchi d'acqua. Andremo a modificare totalmente l'attuale sistema sia del verde che degli spazi pubblici che riguarderà comunque la lotta al cambiamento climatico. I fondi sono fondi PNRR, interveniamo sia sulla piantumazione che sugli spazi pubblici modificando totalmente il concetto di piazza che c'è stato fino ad oggi. cambieremo molto anche il materiale che c'è nella pavimentazione, una trasformazione complessiva delle due zone per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e anche per rendere più bella la nostra città. 205 le nuove piantumazioni previste in centro e adatte all'habitat, tra gli obiettivi quello di risparmiare 13 tonnellate di CO2. Va da sé che la creazione di aiuole, fioriere a raso e sedute va anche nella direzione della realizzazione di luoghi di aggregazione. Previsti interventi anche sul polo museale del mare e delle genti di mare, sul centro di recupero delle tartarughe e sul mercato ittico. I tempi di realizzazione seguono la tabella di marcia dei fondi del PNRR. Entro maggio il bando, entro giugno l'affidamento dei lavori. Entro, un po' di raffinamento dei lavori. Grazie a tutti.